Settima corsa, Premio Castagno, circa 100 metri allo stacco e un doppio chilometro per soggetti di quattro anni. C'è Vincenzo D'Alessandro Junior su Divina Inda. Dream Key, partitore come pochi, assume il comando, si presenta subito Duccio. All'imbocco della prima piegata, Di Nardo a seconda, Dream Key cerca di gestirlo proprio per poter dare il via libera a Duccio. 200 metri in un normale 15 e 1, passa a condurre Duccio, si presenta a largo Denish Model, terza posizione alla corda per Dardo MP, parecchio più dietro gli altri, capeggiati da Divina Inda al 29 e mezzo, il quarto iniziale Duccio da strada a Denish Model. Denish Model, seppur con spesa considerevole, è il nuovo leader dopo 600 metri in 44 e mezzo. Denish Model, Duccio, Dream Key, Dardo MP, Divina Inda, che sul primo rallentamento sposta a destra. Si viaggia sul piede dell'1.15, difficile la risalita esterna visto il ritmo. Denish Model va a completare i primi millimetri in 1.15 scarsi. In scia Divina Inda si posiziona a Duelgar, poi Deus e K in Pariglia. Più lontano, Geoffrey, che non riesce ad entrare per il momento nel vivo della corsa. Una frazione in curva in 15.2, poi torna ad allungare Denish Model. Non lo perde di vista Duccio, lo stesso fa Dream Key. 600 alla conclusione, un 14.9 per l'ultimo paletto. Adesso, visto il ritmo sostenuto, Duccio deve essere stappato in richiesto, si prepara a Dream Key. Denish Model prende una di vantaggio a Duccio. Lo scatto di Dream Key, 1.59.7 il miglio. Dream Key a caccia di Denish Model. Lo raggiunge all'ingresso in retta. Passa facile l'allievo di Di Nardo. Dream Key nei confronti di Duccio. Mentre interviene Duelgar, vince Dream Key su Duccio e Duelgar. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso. Dream Key, Duccio e Duelgar per i numeri 4.6.5. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.7 sul doppio chilometro per un trasformato castrone da Adrian Schippe e Ninfa d'Alfa. i colori della signora Anna Maria Gemma, il training di Michele Di Maro e Nunzio Squeglia. Buon secondo posto per Duccio rivisto in ordine ed il terzo di Duelgar che ha trovato continuità di rendimento. Mentre solo quarto il favorito Denish Model. Grazie. 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 Grazie.